E' atteso ormai nelle prossime ore l'incontro tra Roberto D'Aversa con i vertici della Virtus Lanciano, in particolare il direttore sportivo Luca Leone ed il vicepresidente Guglielmo Maio. Sarà un incontro ufficiale per mettere nero su bianco la firma sul contratto che darà il comando della squadra D'Aversa per la stagione 2014-2015. Una firma che la dirigenza considera una pura formalità, visto che l'ex direttore dell'area tecnica ed ex capitano Rossonero era già predestinato a prendere il posto come allenatore. Un contratto però D'Aversa lo ha già firmato domenica scorsa nella sede dei tifosi della Curva Sud, in occasione di una festa che ha celebrato la splendida stagione appena terminata. Una firma apposta senza trattative, tra i sorrisi e in modo gogliardico, per dare il benvenuto al nuovo tecnico Rossonero che teoricamente avrà un contratto biennale. Per quanto riguarda la Rosa da costruire, si ripartirà con la conferma della Vecchia Guardia, composta da Capitan Mammarella, Aquilanti, Di Cecco, Turchi e Amenta. Ci sono poi ragazzi per i quali la Virtus ha rinnovato le comproprietà come Babatiam, Branescu e Paghera. La società al momento sta lavorando per riottenere i prestiti di Sepe, diretto però in Serie A con Lempoli, Gatto e Germano. Si guarda anche a nuove scommesse come Alessio Vita, classe 93, che ha vestito la maglia del Monza nell'ultima stagione, e al giovane fantasista della Primavera del Torino, Matti Aramu, classe 95, ambito da molte squadre della serie cadetta. Altri giovani seguiti dai rossoneri sono Matteo Gerbaudo, centrocampista classe 95, scuola Juventus, l'attaccante 18enne della Primavera della Lazio, Mamadou Tunkara, ed infine il 19enne Nangal della Primavera dell'Atalanta. In attesa di colpi di mercato, la società sta organizzando il ritiro e le amichevoli. Per quanto riguarda il ritiro, si farà da metà luglio a Roccaraso, presso l'hotel Vetta d'Abruzzo. Un amichevoli invece è stata fissata il 7 agosto contro la salernitana dell'ex Alessandro Volpe.